Le novità sostanziali come dicevo nella prima mattinata proprio di questa giornata è la comunicazione da parte della Prefettura, da parte della Protezione Civile di nuovi eventi meteorologici avversi che dovrebbero verificarsi nelle prossime ore nella nostra zona. Quindi ho ritenuto opportuno intraprendere questa iniziativa di chiudere i due cimiteri sia quello di Giarre che quello di San Giovanni Montebello, le chiusure delle scuole di ogni ordine e grado e verificare nella mezza giornata di domani gli eventuali miglioramenti che potrebbero, ripeto il condizionale, potrebbero consentire di poter aprire nelle ore pomeridiane. Io quello che raccomando ai miei concittadini nelle prossime ore è di avere un'attenzione, di uscire da casa se c'è veramente un motivo, di non girare in moto, perché credo che sia ormai la coda di questa brutta esperienza che noi abbiamo avuto. Ho preso delle decisioni difficili, credetemi, con cittadini, soprattutto quello di mantenere per un altro giorno la chiusura delle attività commerciali e artigianali, che sono uno dei fulpi più importanti della nostra comunità.